Buongiorno a tutti, siamo molto felici di comunicarvi che lo spettacolo abidata della compagnia Riella Vida Kayep e tra i partecipanti del premio internazionale organizzato tutti gli anni dallo spazio Noma Teresa Pomodoro di Milano. Abidate è uno spettacolo che esplora e sperimenta le potenzialità della coreografia in relazione con la tecnologia dell'automazione. In scena è presente un braccio robotico e tre danzatori in un dialogo in diretto. Il braccio robotico è dotato di un occhio telecamera e di un videoproiettore che osserva i danzatori, ne ripropone il punto di vista al pubblico, proiezioni che vengono diffuse all'interno dello spazio e che il braccio condivide con lo spettatore. Si crea così una triangolazione di immagini che permette agli spettatori di seguire la performance anche attraverso lo sguardo della macchina. Lo spettacolo in scena il 26 e 27 maggio alle ore 21 allo spazio Noma di Milano ed è disponibile anche in streaming sul sito www.noma.org. Siamo entusiasti di questa occasione quindi vi invitiamo tutti a presenziare e a seguirci. Grazie.